amici iscritti al canale buongiorno voi come vi organizzate quando piove e oggi ho l'antipioggia da moto e sto morendo di caldo però non ce la facevo stare in casa retine con bigattini e pastura rossa al formaggio si comincia era previsto una tregua della pioggia invece pare non sia così a presto a presto Grazie a tutti. È incredibile la farza di questi pesci. Eccolo qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Primo pesce. Livrea magnifica. Lasciamolo andare. Grazie. Parmi... 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 Grazie a tutti. Non sembrava così grosso. Eccolo qua, un bel pescetto. Questo è bello. Eccolo qua. 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 Grazie. Grazie. Andrà la più grosso. Bel pescetto, eh? Non è tanto grande. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quanto pesa questo? Il pesce pesantissimo. Non è un pesce tanto lungo, però è bello pesante. Guardate che bello che è. Amici iscritti al canale, pesca finita. Prima ora e mezza molto buona, dopo il pesce non sono più riuscito a trovarlo, ho preso solo più cave d'anello che non ho filmato e poco altro. Ho provato diverse combinazioni. Ho provato allungare la lenza, allungare il terminale, allungare la piombatura, riaccorciarla. Niente da fare. Non c'erano più pesci in attività. Cosa che capitano. Spero comunque che il video vi piaccia. Un video sotto la pioggia. Io normalmente non amo pescare sotto la pioggia, ma devo dire che in questa stagione primaverile, essendo allergico ai pollini, mi trovo più a mio agio in una situazione del genere che non in pieno sole. In pieno sole, se non mi imbottisco di antistaminici, continuo a starnutire. Alla prossima, ciao!